Acireale è una città vivibile. Il quesito con cui il direttore Antonio Garozzo ha aperto la quinta puntata di Città a Città è di quelli di non semplice soluzione. Materia complessa è la vivibilità che si dipana tra sottili equilibri che via via toccano interessi personali, comuni, regole, regolamenti, leggi applicate e in evase diritti per chi è abile e per chi lo ha ancora di più con la sua diversità. E Acireale ha da fare ancora passi da gigante anche attraverso le iniziative adottate in questi ultimi anni come ad esempio Acivivibile a cavallo tra le amministrazioni Garozzo e Barbagallo come emerso dal dibattito che ieri ha avuto per protagonisti l'assessore all'ambiente e all'urbanistica Francesco Fichera il presidente della commissione lavori pubblici Riccardo Castro il presidente della commissione ambiente Francesca Messina il già assessore ai lavori pubblici e urbanistica Salvo Ricciardello oltre al nostro pungulatore l'avvocato Enzo Di Mauro. Antonio trovato con la solita arguzia e con l'ausilio di piccole clip detta la linea della trasmissione tra il PRG di là da venire la differenziata prossima e a di venire Acivivibile di ieri, oggi e si spera dell'immediato domani la pedonalizzazione Acivivibile quindi. Lo scopo di Acivivibile è sicuramente quello di migliorare la qualità della vita quanto riguarda le modalità di movimento per la città quindi noi stiamo promuovendo una mobilità dolce. PAES, piano d'azione per l'energia sostenibile e PUM, piano urbano della mobilità sono acronimi a cui gli accesi dovranno abituarsi a cui l'amministrazione affida buona parte del programma Acivivibile. Non è un po' timida come per iniziare la giusura soltanto la domenica sera del Corso Umberto per vedere come va questo piano? Per quanto riguarda la questione relativa al centro storico ho sempre detto che qualunque iniziativa avremmo presa o l'avremmo fatta dopo una concertazione un confronto con i cittadini e ovviamente con le categorie commerciali. In maniera concreta, cosa i cittadini riusciranno a vedere di questo progetto? Acivivibile secondo me per essere Acivivibile deve essere una città consentitene di dirlo anche accessibile e costruibile a tutti. Questa città non è accessibile da parecchio ai diversamente abili. Toleranza zero, il 50% consigliere Castro delle barriere architettoniche sono barriere costruite dagli atteggiamenti incivili dei cittadini. La misura ce l'abbiamo col numero di sanzioni elevate da quando ci siamo insediati ad oggi. Qualità dell'aria, qualità della vita, risparmio energetico, valorizzazione dei rifiuti. Ogni anno 8000 morti sono stati stimati in Italia proprio a causa delle alte concentrazioni, delle polveri sottili. Sul lavoro che stiamo facendo sul piano regolatore abbiamo sempre detto che non è più un piano regolatore di espansione di questa città ma è un piano regolatore di riordino in cave ambientale. La riserva della Timp è stata istituita 16 anni fa e che era carente di questo piano di utilizzo che adesso stiamo redigendo. Si parla anche dei mercati rionali per regolamentare l'ambulantato ma anche per togliere la merce commestibile dall'esposizione dei gas di scarico. Tra le domande che arrovendono il centralino e il sondaggio tra i cittadini la trasmissione scorre via. Fruendo l'ufficio per ragioni professionali lamentano da un mese e mezzo a questa parte la scopertura di quell'ufficio. Direi probabilmente fare il sindacalista di qualcuno. Non abbiamo ruotato un funzionario, abbiamo ruotato prima i dirigenti, tutti i dirigenti dell'apparato burocratico, tutti i dirigenti dell'apparato burocratico. Dopo siamo passati alle categorie intermedie, ovvero ai funzionari, ovvero alle categorie B, e li abbiamo ruotati tutti i funzionari, non uno. Fuochi finali sulla raccolta differenziata. Il sistema che è stato concepito dall'ex Ato, Agia Ambiente, per la raccolta differenziata, è un sistema assolutamente fallimentare che non ha mai funzionato. Si sono presentate tre aziende, aspettiamo che si possa arrivare all'affidamento alla ditta intorno al mese di febbraio. Come mai in questi sostanzialmente 16-17 mesi il servizio di raccolta, pulizia, il servizio ambientale in questa città è scaduto in maniera così particolare e così evidente? Gli operatori ecologici di quartiere, di quartiere, grande presentazione. Dasti che peraltro ha notificato un nuovo ricorso chiedendo altri 2 milioni e 600 mila euro di notizie che le do. Il periodo ha sostanzialmente reclamato questi soldi sulle ordinanze emesse dall'amministrazione Garozzo. Ma per essere vivibile a Cireale deve anche ripensarsi, adeguarsi e forse pure cospargersi il capo di cenere per le tante barriere architettoniche che la rendono invivibile o quasi e diversamente abili in carrozzina, a volte costrette a restare a casa e a non poter godere della propria città. Questi solo pochi aspetti di Città Cittadieri, trasmissione che potrà essere rivista oggi alle ore 16 e domani alle ore 23 su Etna Espresso Channel perché il dibattito parte da qui. Grazie a tutti.